Buongiorno, benvenuti su Akatsuki e siamo di nuovo qua su Takedown Red Saber Facciamo un lancio, corrisponde all'iniziale e vediamo, ci riproviamo Siamo sempre qua su questa mappa, c'è sempre il solito lag e vediamo se riusciamo a colpire qualche d'un altro Qualche soldatino che impudentemente Ah guardalo lì, morto, si è accasciato come un pezzo di burro Perché i pezzi di burro si accasciano? Beh probabilmente si Quelle porte sono chiuse, queste porte sono chiuse No, chi lo sa E questi di qua saranno chiuse anche loro Sì sì Vabbè mi spiace solamente uno ne ho cerchionato da qua su Ok Non sapete che ansia che ho Ho sparato attraverso la ghisa di questi corrimano Di questo corrimano No, non cadere Vabbè, è qua Dire che è poco compenetrato deve fargli un complimento Vediamo Beh, sì insomma Gli occhi ci sono Da dove cazzo mi hanno sparato? Vabbè, è finita qua e È carino Sì, è molto carino quando ti sparano alle spalle E tu avevi controllato prima l'angolo dietro Arrivederci